a questionarmi di questo mondo perché ho parlato di mio padre e ho un'altra azienda di Nicola e quindi mi ha iniziato a coinvolgere tra le vigne, tra una fiera importante che era il Vinitaly e avevo cominciato a scoprire questo mondo che mi interessava a che ho deciso di studiare viticoltura e tecnologia e sono andata a Milano e da lì ho capito che era sicuramente la mia strada per cui poi ho messo l'acceleratore e ho deciso di tornare in Sicilia per cominciare in qualche modo a fare qualcosa la Sicilia respira storia, cultura e tutte le denominazioni che l'hanno conquistata in ogni dove io penso che la Sicilia da questo momento in poi sta vivendo una piccola rinascita poco a poco grazie a delle piccole attività, piccole persone che con delle cose semplici hanno deciso di cominciare dei nuovi percorsi grazie a tutti